Negli impianti domestici la forza elettromotrice è di 230V, non significa che è l'ampiezza, ma è il valore efficace. La forza elettromotrice oscilla con un periodo di 1 cinquantesimo di secondo e con valore efficace 230V. Allora moltiplicando per radice di 2, questo valore efficace si ottiene l'ampiezza di oscillazione della femma alternata, che è 325V. Quindi la femma oscilla tra meno 325V più 325V.